Antopar è un'azienda austriaca con 90 anni di storia, ha una filiale italiana che da 5 anni con sede a Rivoli e produce e distribuisce strumentazione per beverage, pharma, chemical, petrol a 360 gradi. Qui al Beer Attraction siamo qui per presentare la nostra strumentazione per i birrifici artigianali, qui potete vedere il densimetro portatile con una immediata lettura del plato e qui invece abbiamo il C-Box che è lo strumento per leggere la CO2 e l'ossigeno disciolto. Va collegato al PFD per andare a leggere gli stessi parametri all'interno della bottiglia. Lo strumento può anche essere usato direttamente dai fermentatori, collegandolo direttamente lì. Le letture avvengono in pochissimi secondi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.